Il cibo è la migliore cosa che ci sia, vero? Dolce, salato, aspro e umami. Tanti gusti e tanti modi diversi di mangiare cibo, di nasconderlo e di servirlo in modo intelligente. Sarà il viaggio più bello che abbiamo mai fatto! Sei pronta per la nostra avventura? No, ma soprattutto non vedo l'ora di arrostire i marshmallow! Ci divertiremo un sacco! Sì, sarà fantastico! E anche il tempo è perfetto! Sì, hai ragione! Aspetta, cos'è quest'ombra? Oh, non c'è più il sole come prima! Oh, no! Il nostro viaggio è rovinato! Oh, è così triste! Ehi, ma abbiamo ancora i marshmallow! Non tutto è perduto di questa avventura! Primo passo, mettiamo i marshmallow su uno spiedino! Poi li mettiamo sul tostapane! E ora si tosta! Girali, così non si bruciano! Mi sa che sono pronti! Guarda un po' qui! No, vabbè, come hai fatto? Marshmallow arrosto! Le adoro! Assaggiamo! Mmm, deliziosi! Sì? Sono venuti da Dio! E lei non mi credeva, capito? È dura, capisco! Fai una pausa! Oh, uno spuntino! Sì, mi sentirò meglio! Ne ruberò uno mentre mamma non vede! Ehm, non credo proprio! Assolutamente no! Sono pieni di zucchero! Mamma, mamma, dai, ho fame! Ho detto di no! No è no! Sei tremenda! Se hai tanta fame, puoi mangiare qualcosa di sano! Fiocchi d'avena, davvero? Oh no! Farò tardi! Devo sistemarmi il trucco! Va bene, buona giornata! Ci vediamo più tardi! Ok, ciao! Aspetta, mamma, i tuoi trucchi! Aspetta un attimo, mi è venuta un'idea! Tirerò fuori i trucchi dalla palette! E ora aggiungo degli orsetti di gomma! Perfetto, uno in ogni spazio! Poi un po' di phon! Così si squagliano per bene! Uh, ecco qua! Wow, sono venuti benissimo! Oh, eccola che torna! Mangerò questa barretta! Oddio, cosa ti avevo detto? Beh, ho così fame che mangerò gli ombretti! Mmm, buonissimi! Che ne pensi? Oh no! Mamma! Ti batterò! Oh no, abbiamo finito i popcorn! Torno subito! Ci sarà qualcosa in giro! Uffa, non abbiamo niente! Cola e patatine! E la pizza! Wow, quanta roba deliziosa! Ehi, aiutami col cibo! Sono nel bel mezzo della lotta! Mi serve una mano! Non voglio far cadere le cose! No, sta cadendo tutto! Ah, mi sono arrivati addosso gli snack! Ti avevo detto che mi serviva una mano! Scusa, ti aiuto! Scusa, ti aiuto! Aspetta un attimo! Ho un'idea geniale! Torno subito! Ok, ho questa bottiglia di cola! E ovviamente la mia pistola per colla a caldo! Bene, userò il calore per fare un buco nel tappo! Sì, proprio così! Quando si è freddato posso infilare una cannuccia nel buco! Ora è il momento di fare il prossimo passo! Ora aggiungiamo la pizza e le patatine! Oh, che bello! Ehi, guarda cosa ho fatto! Ma wow, è incredibile! Dai, mangiamo! Pronta? Mmm, che buono! Decisamente i miei cibi preferiti! Ah, è il momento di un buon gelato! E patatine e cola! Pronta per questo super pomeriggio! Devo recuperare un po' di video! Che ridere! Amo questa canzone! È la mia preferita! Ah, non vedo nulla! Ehi, sto provando a guardare dei video! A solo! Questo spacca! No! Il mio gelato! Oddio! Mi dispiace tantissimo! Ah, hai rovinato i miei piani! Aspetta, ho un'idea! Tolgo il tappo alla bottiglia! Poi mi serve una bustina! Metto la cola nella bustina! Eccoci qua! Ho riempito quattro bustine! Ora mi servono dei bastoncini da ghiacciolo! Li inserisco nei sacchetti e poi chiudo! Poi vanno in freezer! Ecco qua! Sono pronti! Ne prendo uno e tolgo la bustina! Ottimo! Il mio ghiacciolo alla cola è pronto! Mi sento così male per averle rovinato il gelato! Senti, non c'è problema, davvero! Prendi un ghiacciolo! Per me? Davvero! Wow! Sembra buonissimo! Grazie! È pazzesco! Quasi meglio del gelato! Oh, non vedo l'ora di mangiare questo panino! Sì! Mamma mia, quanto lo volevo! Devo mangiare qualcosa! Wow! Quel panino sembra super delizioso! Oh sì, lo voglio! Ehi, il tuo panino sembra buonissimo! Posso assaggiarlo? Oh no, lo mangio tutto, mi spiace! Oh, vabbè, buon appetito! Forse qui c'è qualcosa! Bleh! Il cibo fa tutto schifo! Non c'è niente per me qui! Ehi! Questo potrebbe andare! Un guscio d'uovo vuoto! Oh sì, lo assaggerò decisamente! Oh, il mio dito! Ok, ci sono! Guarda! Quest'uovo si sta schiudendo! Cosa? Ma che dici? Oddio! Oddio! Wow, come corre! Prenderò questo bel piatto! E tu sei più da panino o da pizza? Faccelo sapere nei commenti e non dimenticare di condividere questo video con i tuoi amici e di iscriverti al nostro canale per altri fantastici video come questo! Ciao! Ciao! Grazie per la visione!